Signore e signori buongiorno e buonasera, dall'arena centrale la cronaca diretta del campionato di atletica leggera, ecco il famoso discobolo Muscolati, strabiliante, egli non è un atleta, è una tromba d'aria, il disco schizza in cielo e scompare dalla vista degli spettatori, ma noi lo seguiremo per voi, abbistato, rieccolo giù il nostro valide fuggitivo, No, non è lui, ufo, che peccato, adesso non c'è dubbio, è proprio lui, voilà madame messia la tour, la gru e i feli, e finalmente raggiungiamo il disco mentre circunnavigata la terra rientra nell'arena stabilendo così il più prestigioso record universale, ma il nostro lavoro non è finito, intervistiamo ora l'artefice della straordinaria impresa, il campione Muscolati, nell'intimità della sua casa, sorridente, riposato, si fa fotografare con tutta la famiglia, indovinate come? In maglie e pigiami Movil, ci può dire perché? Perché noi viviamo in Movil, smaglianti, piacevoli, desiderabili, le maglie e i pigiami Movil hanno conquistato le famiglie italiane, Movil, della Polymer prodotti confezionati.